La forza la trovi dentro di te, nessuno te la può dare. La forza di lasciare andare, la forza di dimenticare, la forza di vivere, di continuare a lottare, la forza di sorridere, anche quando non hai voglia di farlo, anche quando qualcuno vorrà portartela via. Vinci la tua battaglia, ma non sugli altri, su te stesso, la battaglia della tua vita. Trova il sole dentro di te, in modo che possa risplendere, ogni volta che la pioggia vorrà bagnare il tuo sorriso e oltreggiare la tua anima. Carissimi amici di Santina, non avrei mai pensato di trovare qua un logo tanto grande. Nel 2011 ero venuto come Santina in questa terra e adesso tutti coloro che partono dalla strada possono conoscere che cos'è Fondazione Santina. Vi ringrazio per quello che stiamo facendo, questo anno è tanto importante della mia nuova vita. Abbiamo iniziato veramente bene con la costruzione di questo muro, che ci darà la forza di costruire altre cose. Questo anno è pieno di tante belle iniziative. C'è l'inaugurazione in Vietnam di una rete elettrica al nord a Kinao. Poi abbiamo in Peru l'inaugurazione nella foresta amazonica di una nuova parte del seminario, la cucina in rettatorio. Sulle Andie abbiamo l'elettrificazione del nostro asilo. E poi in Messico abbiamo la costruzione di un mural molto grande per le vittime, in Arcos. Abbiamo poi in Kenya di nuovo a settembre tante belle inaugurazioni. A Burantana due tali che è da 10 mille litri di acqua per due cisterne di 10 mille litri di acqua per la diogesi. Poi abbiamo a Burantana, avete visto il progetto della cucina e della sala a pranzo. E poi dalle cuore di Manblui inaugureremo i pannelli elettrici grazie alla bontà dei bambini di Bello. Ciao a tutti amici di Santina.